il ammortizza dottor siri bagger di non out non può attacchiare ci penso ci penso Luciano, il piaccimo punto per la Silvestre sale di nuovo lì super partita ora si è giocato il Zolli il Fredo Leona al servizio ma se lo gioca anche con questo tocco di secondi tensioni resiste il capitano della GSM di Perugia Ricci spesa veloce indietro molto bravo Ricci, Marino Torena Bruno per Leal il muro c'è, il muro c'è il muro di Luciano De Cecco il muro di Luciano De Cecco il punto numero 4 per la Silvestre festeggiare ma Lorenzo Bernardi gli vuole tutti dentro all'ovile dei 9 per 9, 81 metri quadri con Luciano De Cecco che va prendersi un giocatore che è basso a muro ma tira ancora più basso le alle da un foster block De Cecco blocca i pulsi ed entra a sua ammessa a Leone Rugito, Zampada Zampada zona di conflitto un grande ace dopo l'attacco di Leone dalle 23 metri arriva la stacca invece dei 9 metri dice nooo 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 iniziamo a parlare troppo e a giocare e a non giocare al meglio dei palloni guardate questa ovviamente situazione di autocopertura poi si blocca completamente su questo attacco in palleggio la sfida in questo set 20-15 di vantaggio riguardate questo buon pallone rapidità e velocità cerca Kigos un'azione con l'ala di Pulmago e mette le mani in faccia buon motorblog De Cecco e Ludi secondo a trovare il parco a trovare il punto sicuramente è il miglior Luciano De Cecco di questa non restituisce il favore dell'amico italo-cubano venga il punto se può aver servito a cento allora va a cercare l'incrocio delle righe un altro ace non è la zona di conflitto adesso l'incrocio delle righe il terzo ace personale per Luciano De Cecco sta facendo la differenza il capitano c'è solo un capitano i sermaniaci danno questo tipo di messaggio ma è Luciano che cambia ora leggermente guarda lì profondo profondo grazie a tutti grazie a tutti